Che dice? Dice non posso lavorare in farmacia, via. Che vuoi fare il barrista? Andà a fare il barrista. Andà a fare il barrista, no? E c'era tutti i tavolini fuori, no? C'era tutti i tavolini fuori. Oh, fate poco assi. Ho tovaglioli, vuoi tutto, è duro. Ho portato la pasta, porta anche i tovaglioli. Che fai? Tu c'hai, che c'è? Uno tsunami qui sopra, guarda. Vai, vai, vai. Tieni, guarda, qui la resto per il tovagliolo. No, fermo! Andà a fare il barrista. E fuori dai bar c'era tutti i tavolini, no? E c'era tutti i ragazzi, così. E c'era un bel ragazzo alto, biondo, no? Che però c'aveva un difetto, faceva tutto sì. Dice, voglio telefonare alla mia fidanzata a Milano per sentire come sta. Non c'erano ancora cellulari, no? A quei tempi. Che dice, ho dentro. Viene da me, dice, barrista, quanto si spende? Per telefonare a Milano. Gli disse, ma lo so mia, si va a scatti. Allora io mi ci rovino il dentro, guarda. Tu c'è fuori. No, no, non gli fate gli applausi. Dopo mi metto lì, me li fate direttamente sui visi. C'è fuori, dice, mi scappa e fa la pipì. Indola fo, indola fo, indola fo, indola fo. Dice, ma c'è il muro, falla il muro, no? Che si mise lì al muro? Shhh, eh, shhh, eh, shhh, eh, shhh. Arrivò un uomino piccino, si dice, guarda, guarda, ce la fa lui, ce la voglio fare anch'io. E lì si mise accanto, no? Che è questo lì? Eh, 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 l'uomino, senti. E questo lì? Eh, eh, l'uomino, senti. E questo lì? Eh, eh, l'uomino, senti. Già. E questo lì, senti un pochino, eh, ma che mi fidi per il culo? Dice, eh, no, no, sono gli schizzi. Arrivò un altro, dice... Porca miseria, ce la fanno loro o ce la voglio fare anch'io, no? Che si mise lì al muro, se lo tiro fuori, no? Booo. No, pesca, no? Che si mise di... Uuuuuh, c'aveva una manichetta, no? No, io non lo do più. Perché una vecchina gli fa, sulicione, maialone, porcellone, schifosone che non è altro. La saccosti di più al muro? E lui gli fece, e frego. Grazie.